come fai tu franco caro franco simone amico mio auguri e ancora di una un viaggio lunghissimo di arte di musica perché sei un artista e gli artisti devono girare e devono comunicare da toni cercola e da narita auguroni ancora ma siamo all'inizio e poi bisogna fare un brano insieme ciao franco